Cari Vergine, forse nel raccoglimento, nella riservatezza, un po' nel vostro buon retiro se ne avete uno, o comunque crogiolandovi un po' e cuocendo nel vostro brodo, che avrete le idee migliori, che risolverete i problemi. A volte gli aiuti altrui potrebbero quasi essere dannosi, quindi anche nel caso in cui vi venisse offerto un sostegno cercate di selezionare. Le giornate migliori della settimana paiono essere giovedì e venerdì con una bella creatività scoppiettante anche di tipo suino, quindi quelle sono proprio giornate anche da dedicare ai passatempi graditi all'anatomia tutta. Forse le giornate invece un pochino più zoppicanti sono quelle che vanno da lunedì a mercoledì. Don't square, don't sbrock, non combinate, cacchiate.